Ancora aggiornamenti da Firenze Smart, buongiorno da Mauro Ciutini. Sulla 1 tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud c'è un veicolo in avaria in direzione Roma. Ci sono lavori, sempre in A1, tra Sasso Marconi e il BV A1 variante di Valico in entrambe le direzioni. Code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Sabato parte da Firenze il Tour de France, oggi presentazione al piazzale Michelangelo, deviazioni e limitazioni previste dal servizio per le linee urbane 12, 13, 23, 38, C1, C2, C3 e C4. Verrà istituita la navetta Bartali, servizio gratuito dalle 16 alle 21 che collegherà l'Hub Vittorio Veneto al piazzale Michelangelo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti al momento. Moversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi. A più tardi.